Ciao a tutti e bentrovati. Con il video di oggi facciamo una meditazione sulla pulizia del corpo tratta dal libro Ho'oponopono e i guaritori hawaiiani. Ho'oponopono prima di dormire e al risveglio. È sempre utile attuare una buona purificazione prima di addormentarsi, allo scopo di eliminare tutti i ricordi in rapporto con gli eventi vissuti e le persone incontrate durante il giorno. Quindi sarà sufficiente affidare a noi stessi la volontà di trasformare tutte le preoccupazioni del momento, abbandonando le aspettative e accettando il fatto che ogni cosa è perfetta. Possiamo fare la stessa cosa al risveglio. Dopo alcune respirazioni profonde ci colleghiamo con la parte profonda e consapevole di noi e pratichiamo Ho'oponopono per tutti i progetti, i doveri, gli obblighi, gli appuntamenti, gli incontri previsti per il nuovo giorno, alzandoci esclaveremo un grande grazie e lasceremo cadere tutte le aspettative per la giornata. Infine, affermeremo la nostra unità in tutte le parti dell'essere, subconscio, conscio, superconscio e coscienza. Così la giornata trascorrerà in perfetta armonia. Fatta questa premessa iniziamo con la purificazione del corpo. Mettetevi comodi, mettetevi seduti o sdraiati come preferite in un ambiente con una temperatura accogliente, che non sia troppo freddo, che non sia troppo caldo, che ad ogni modo in cui vi sentite a vostro agio, comodi. Scegliete la posizione, se sdraiata o seduta, e a questo punto iniziamo. Questa meditazione effettuerà una purificazione completa da tutti i ricordi immagazzinati nel corpo. Straiati o siediti comodamente e fai in modo di non essere disturbato per qualche minuto. Per esempio, stacca il telefono. Chiudi gli occhi e fai qualche respiro profondo. Concentra l'attenzione sui piedi e chiedi che siano eliminati tutti i ricordi conservati nei piedi. Ripeti, grazie, ti amo, per sei o sette volte. Successivamente, concentra la tua attenzione sui punti seguenti ogni volta, ripetendo per sei o sette volte, grazie, ti amo. Da questo momento in poi, qualsiasi rumore che verrà dall'esterno ci aiuterà a scendere sempre di più in una profonda concentrazione verso noi stessi. Iniziamo a porre l'attenzione sulle dita dei piedi. Grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo. Pensiamo adesso alle caviglie. Grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo. Grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo. Grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo. Portiamo attenzione alle ginocchia. Grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo, grazie, ti amo. Pensiamo alle koshe, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo alle anche, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo al plesso solare, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo al basso ventre, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo agli organi interni, il fegato, lo stomaco, i reni, l'intestino, la vescica. Grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo adesso al cuore, ai polmoni. Grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo adesso al petto, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Grazie ti amo, 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 grazie ti amo. Pensiamo adesso alle mascelle, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo adesso alla bocca, al naso, agli occhi, agli orecchie, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo adesso a tutta la testa, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. Pensiamo adesso a tutte le cellule del corpo, pensiamo, concentriamoci sulle cellule del corpo. Grazie, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo, grazie ti amo. grazie, ti amo pensiamo a tutte le cellule del sangue pensiamo a questo sangue che circola su e in giù e si ossigena, si purifica leva le scorie leva il sangue sporco e si ossigena, si trasforma in sangue pulito pensiamo a queste cellule del sangue che scorrono in tutto il nostro corpo fluide, sane grazie, ti amo 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 pensiamo alla pelle la nostra bellissima pelle pensiamo alle unghie ai capelli grazie, ti amo 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 pensiamo alle ossa grazie, ti amo 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 grazie 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 ti amo accogli le sensazioni che questa purificazione ti procura in profondità e ringrazia ringraziamo la nostra vita ringraziamo il nostro corpo con oggi la meditazione è finita con l'occasione abbiamo dedicato un po del nostro tempo a ringraziare la nostra vita la nostra coscienza che sta facendo l'esperienza di vivere il nostro corpo questa meditazione può essere fatta la mattina o la sera per ricordarci proprio di dare valore alle nostre cellule di pulire le memorie di pulire i ricordi che in modo inconsapevole li tratteniamo in alcune parti del nostro corpo quindi rimangono un po in alcuni punti più di altri e quei punti è probabile che soffrano di più e poi si trasformino in delle disarmonie fisiche con questo vi saluto vi auguro una buona giornata se state iniziando la giornata se avete fatto questa meditazione di sera estate per andare a dormire vi auguro un buon sonno e alla prossima ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti